Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Bandico of Isaac, Mevento, io sono Leone e siamo qui oggi per continuare a fare partite con sta mod di cui sono sinceramente preoccupato, perché la volta scorsa sono succese cose brutte, quindi andiamo a fare, che mi sto dando la tasca, non lo so, con mamma il piano, perché questa è mamma chiaramente, ok? Siete per questa modalità S, Y, D, K, S, K, Q, G e basta, mamma quanto pare inizia con statistiche base, tears aumentate, 4 oggetti di mamma, che sono uno che mi dà le tears, 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 che mi fanno innamorare i nemici di me, uno che mi dà tears che fanno fuggire i nemici a me, un range up e uno che evoca dei ranni, di contro ha una partenza che sembrerebbe fin troppo buona, una mod che dovrebbe aumentare il danno, cioè, la difficoltà, scusatemi, sono impazzito un attimo, una mod che dovrebbe aumentare la difficoltà, abbiamo però soltanto una cosa, un cuore a posto dei 4 di Maddalena, quindi, stronzo, e sono morto, perché Ultra Pride, giustamente, mi ha ucciso, se è l'art 1, di nuovo, questo è il sito, se per caso vi interessa, non lo so, corso The Darkness, e niente di che, riniziamo la partita, molto semplice, mi hanno già dimostrato questa mod, in alcuni momenti, mi mette, mi ha messo un what incredibile, incredibile, precisamente, nella scorsa partita, minuto 30, quel what incredibile mi fa dire, c'è un gaster blaster, per quale motivo esiste, però va bene, cioè, non posso neanche dire no, però c'era un fottutissimo gaster blaster, che è, chiaramente, Juve the Whoop modificato, per giunta, o un oggetto nuovo, o non lo so, se non abbiamo incontrato Juve the Whoop, però, ok, ci sono tanti problemi nella mia mente, dopo quella volta, quindi, lascio scorrere, in ogni caso, prima pillola, non la capa, la bottiglia di pillole mi permette di generare pillole ogni 6 stanze, ogni 6 ricariche, quindi, non è troppo buono, però può essere funzionale, non è, diciamo, il primo oggetto che vorresti, ecco, in ogni caso, non è, cioè, io sono ancora, sto ancora ripensando al gaster blaster, perché c'era un fottutissimo gaster blaster, in una mod che non c'entra, non è merito piffero con Undertale, credo che morirò io, con, facendomi questa domanda, con questo dubbio, con questo dubbio amletico, oserei dire, quasi, mezzo cuore, però, non mi interessa, visto che ho soltanto un mezzo cuore, appunto. Ora, in ogni caso, parliamo d'altro, io ho deciso dopo avere la visione del gaster blaster, che mi fa dire, ehm, perché c'è un gaster blaster senza motivo, sta mod, forse non è di qualità, come pensassi, come ho pensato, come credevo che fosse, quindi, mi son detto, se volete che io registro soltanto i personaggi che cambiano effettivamente, cioè, sono personaggi nuovi, gli altri cambiano, ma, non lo so come, quindi, potrebbero non cambiare, come Isaac, per dire, ha il disegno soltanto con duemila cariche, per dirvi, però, ditemi voi, in ogni caso, se volete che faccio in quel modo, cioè, registro soltanto questi che cambiano e poi finisco da un modo, ditemelo io, intanto mi pre-registro soltanto mamma, bully e dead, gli altri li lascio, quindi vediamo. In ogni caso, l'obiettivo di questa partita è Satana, che mi preoccupa, perché la scorsa volta abbiamo scoperto che la boss fight modificata, sono tutte le boss fight insieme, quindi Satana 1, 2, forse venga Satana, cioè, The Lamb, Satana e Mega Satana, sarebbe interessante come idea, in realtà, spero l'abbiano fatta, quasi. Ok, se ve ne andate da me, mi fate un grande piacere, ho il coltellino, che è un aumento, cioè, ho un coltello di mamma, che è dovuto alla trasformazione mamma, perché la cosa non è così brutta, come può sembrare, però va bene, non fa troppi danni, ma non è neanche inutilissimo. Ora, io spero in un cuore di feda, questi campioni, eccoli. Però, no, mi hanno dato tanto di quelli rossi, che uno ho preso per sbaglio, non volevo prenderlo, perché era uno spreco, però va bene così, dai, facciamo esplodere questo lì, perché la troll bomb così andrà, non ci credo che l'ho spostata davvero a fanculo, la troll bomb di quel coso. La troll bomb così, stavo per dire, almeno fa scoppiare qualcosa, si rende utile. Invece, mi stava per andare addosso a me, grazie. Ora, vorrei evitare di prendere danno, perché fatti con Satan, nello scorso video, non gli abbiamo, cioè, non ci hanno, non ho dato soddisfazioni, proprio soddisfazioni soddisfaziose. Però, magari in questo sì, andiamo ad andare via di qua. Io, sinceramente, con quello di campione, non voglio tentarmela, perché un fuoco campione è qualcosa di strano, quindi, no. Io preferisco levarmi dalle scatole e non affrontare il fuoco campione, perché è un campioncino quel fuoco, proprio. Andiamo. Oddio, è gigante, era gigantesco, era diventato enorme. Non è il caso, possiamo continuare andando avanti. Perché continuare andando indietro, giustamente, voi potreste fare la battuta e dire, io continuare andando indietro non l'ho mai fatto. Non l'ho molto cagato, però forse dovevo, ho ottenuto un oggettino abbastanza utile. Non il più utile di tutti, perché non è mai il più utile di tutti questo stats-up. Però è un buono stats-up, mi ha aumentato un po' il danno, le tears, e mi ha dato un cuore in più. Che mi pone al di fuori dei problemi di vita che possedevo fino a due minuti fa. Anche se, in ogni caso, avendo ottenuto questa cesta dorata, fa sempre un... Cioè, dà sempre un grande aiuto. Ora, negozio, ci sono solo 6 centesimi, quindi non mi interessa entrarci. O forse sì, prevedo di riuscire a recuperare i restanti centesimi nel negozio. Il negozio, per giunta, ottiene dei nemici, di solito. Almeno abbiamo imparato che ha dei nemici, un oggetto, o due oggetti proprio se siamo fortunati. E... questa è Red Gas, ok? A mio rischio è pericolo che sto prendendo. Dovrei evitare, in realtà, di prendere quelle che non conosco ora. Che c'è, sono un buon pool di quelle che conosco, quindi devo evitare di prendere le altre, in teoria. Però, no, mi piace soffrire. Oming Bobby Bombs, mi dà 5 bombe, mi permette di vedere dove vanno. Alla fine ho optato per entrare qua dentro, anche se, sinceramente, mi non vedo nulla di che. Ecco. Aspetto di tranquillità. Mettiamo questa Oming Bombs lì, che mi fa anche il doppio lavoro. 9, io ne posso prendere 6, ok. Vediamo Diplopia. Ora Diplopia. Eh, Diplopia ha il suo stile. Ci sto ragionando. Diplopia ha oggettivamente il suo stile. Cerchiamo la stanza segreta. Magari mi dà centesimi. Può essere qui. Infatti. Vari mi dà centesimi. Cacchetta dorata. Mi dà il contraffatto. Mi dà il penny contraffatto. Devo dire in italiano perché sono incapace di dirlo in inglese. Facciamo esplodere questi due. Cosa mi dà di buono? Niente. Ok. Ora. Penny contraffatto. Può essere buono. Penny contraffatto ogni tanto ti dà la possibilità di attivare due volte l'effetto. Cioè il valore. Di duplicare il valore di un centesimo. Quindi prendi un centesimo e raccogli due. Tra l'altro range up lo prendo. Ora la domanda più grande è Diplopia o il cuore di fede? È un'enorme domanda. Tutte e due scelte valide. Io la gioco rischiosa. Diplopia. Vai. Vediamo come fa. Diplopia cosa fa? Raddoppia. Duplica. Tutti gli oggetti presenti in una stanza. Consumabili e non. Può essere un ottimo oggetto. Può essere un vaffanculo enorme. Perché mi è nato una stanza piccola come un mostro più grande. E quantomeno non può saltarmi sopra. Quindi in un certo senso mi aiuta questa cosa. Però. Comunque non è di certo il mio tipo di mostro preferito. E comunque va bene così. Io non parlo. Perché se parlassi succederebbe poi dopo aver parlato quello che giammai vorrei. Non lo so. Tirerei tante parolacce al mondo. Tante ma svariate. Variate. Ok. Là. Stavo per felare una schivata. Il mostro è morto. Ok. Volevo dire. Io dovrei riuscire a battere il mostro facilmente. Magic mushroom. Oggetto di gappi. Voglio magic mushroom due volte. Sì. Voglio magic mushroom due volte. Mi conviene magic mushroom due volte. Mi dà due cuori. Un buon range. E un aumento di danno di 1,5. Sì. Conviene. Perché oltre alla moltiplicazione del danno mi dà 1,5 di danno in più. Tipo. Ho 0,5. Non mi ricordo mai. Però comunque era più di mit. Meno di altri oggetti. Più di mit. Quindi mi sono preso l'oggetto di gappi. E lascio stare. Potevo prendermi il generatore di pillole. Ma fanculo. Dovevo fanculo lo dico da solo. Perché ovviamente non fanculo perché me ne sono dimenticato. Non per altri motivi. Mi ha trovato qualcosa? No. Possiamo proseguire con una situazione un po' strana. Cioè non sono fortissimo. Sono gigante. Come ben notate. Spero che ci siano set down nell'arco della partita. Sono gigante. Quindi spero di una situazione. Cioè è una situazione un po' strana. Perché mi mancano le tiers. Trovassi oggetti che mi portano le tiers a 5. Con questo danno. Con il moltiplicatore di dar. Dello stats up. A mio avviso. Migliore del gioco. Perché secondo me è migliore. Poi c'è gente che in realtà. Pensa. Cioè lo so. Con certezza che capricorno. In molti casi può essere più utile. Perché magari trovi cricket set e capricorno. Eh sì. L'avrei speso. Una chiave. Non fa nulla. Non l'avevo visto quel coso. Ma l'avrei speso. Certo. Certo. Ma come no. Mi pio sti oggetti del cavolo. La reliquia invece. È un oggetto che vorrei. Perché la reliquia ogni tanto. Casuale. Una cosa. Cioè il fine di una stanza. Mi dà la possibilità. Di avere un drop. Di cuore di fede. Quindi non è male. Come oggetto sono un nebecille. Perché sono. Odio quando faccio le cacate. Che lì. Il danno. Potevo evitarmelo. Di prenderlo. Quanto meno. Chissà come funziona. Il fatto che è diventato amichevole. Verso di noi. Cioè non ho voluto testarlo troppo. Però forse magari. Perché in modo funzionava. Un cuore di fede. Che prendo. Per aumentare la mia vita. Visto che non la vedo. Anche se il patto. Un satanazzo. Ce lo siamo giocati. Cioè ce lo siamo. Bruciato sicuro. Prossimo piano. Un altro cuore di fede. Ecco la reliquia. Cominciamo a mettersi a lavorare. Non vedete troppo a cuore di fede. È uno tra. I migliori famiglie. Ottenibili. Se si ha bisogno di un po' di vita. Non so perché oggi mi fa male. La mano sinistra. Che bella la mia vita. Non fate patute stupide. Vabbè. Non è il caso. Solo messo. In realtà abbastanza bene. Non è brutto questo. Questo setup. Setupposo. È un setup discreto. Discreto ma non ottimo. Policefalus. Sì. Rimane però lì bloccato. Ne sarei contento. Cioè non mi lamenterei mica. Ovviamente. Era soltanto un problema temporaneo. E non permanente. Mi sono andato a infinocchiare in un brutto post. Ha preso anche due danni. Per quella brutta scelta che ho fatto. In quel momento non so perché. Di mettermi lì. Comunque range più la cap. Non male. Un cuore di fede. Ottimo. No. Counter fight. Ho il penny contraffatto. Counter fight penny. Counter fight penny. Non lo so pronunciare. Quindi io mi faccio un giro ancora per questo piano. Undici minuti qua. Siamo ovunque in tempo. Meglio della scorsa partita. Di certo. Non è che ci sono molti problemi. Nel dire ciò. Che la scorsa partita eravamo proprio. Di una lentezza unica. La partita era proprio lenta. 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 Non è caso io vado avanti. Bene. Contrafatto potrebbe tornarmi molto utile. Ora dovrei avere un 67% di possibilità. Che mi aiuterà abbastanza. Volare in questa modo lo ritengo molto utile. Perché hai una buona scelta di trinket. Magari nei trinket iniziali trovi cancer. Cancer è sempre il. Allora. Pochi trinket possono giocarsela con cancer. Però cancer in ogni situazione è utile. No. Avere più tears oltre il limite. E non poche più tears. Ma abbastanza più tears. Non mi ricordo mai e poi mai una situazione in cui fa un brutto effetto. Magari con un setup in cui non potete sparare. È neutro. Ma non è di certo dannoso. Anzi aspetta. Uno c'è. Un motivo per cui non volere più tears. C'è. L'unico caso in cui cancer non è utile quando hai dottor fetus. Perché dottor fetus ti fa sparare bombe. Che hanno un certo range. Una certa velocità. Esplodo dopo tutto il tempo. Non esplodono esattamente subito una dietro all'altra. Ma aspettano un pochettino. Prendo danno. Ottengo centesimi. Ok. Non male. Soprattutto perché ho il penny contraffatto. Però ora. Quindi in teoria. Ok. In caso voi aveste. Avreste. Avreste. Oddio santo. Perché ogni tanto mi parte la grammatica italiana. Proprio. Muore temporaneamente la grammatica italiana nella mia bocca. Però vabbè fa nulla. Ogni tanto. Prendete qua dentro. Magari c'è qualcosa di interessante. C'è restock. Restock non è male. Perché basta trovare un arcade. E io posso farci le peggiori porcate. Dopo che ho trovato restock. Soprattutto con piggy bank. Vediamo poi se riusciamo a prenderci restock. Ho sprecato un po' di bombe. Lo so però. Mi sentivo che c'era qualcosa. Anche se era Bob's Brain. Dopo le bombe che ho buttato. Io Bob's Brain. Seppur non è l'oggetto della vita. Me lo recupero. Posso sparare un po' così a caso. Intanto ho abbastanza range. Perché. Per la speranza di colpire qualcosa. Ci sono abbastanza nemici. Per cui me lo posso permettere tranquillamente. Sta cosa. Comunque. Poco. L'ho lì. Mi ha lisciato per poco. Ovviamente qua ho preso danno. Spero. Spero. Comunque. In ogni caso. Di ottenere. I 15 centesimi per restock. E poi. Sfruttare restock. Ogni negozio. Più o meno. Se ottenessi grid. Nel prossimo. E per l'ultimo. Restock. Avessi restock. Pronto. Con i saldi di steam. E un arcade. Magari. Sarei abbastanza contento. In ogni caso. I 15 centesimi li abbiamo recuperati. Non male. O è cosa. Ho preso un danno. Ho raggiunto. Quindi magari facciamo. 16 centesimi minimo. 17. Ok. Ottimo. Ora. Questa sarà una bella partita. La money was power. Ok. Com'è. È abbastanza facile. Imparare i colpi. Però. Va bene. Tears up. Questo va preso. A prescindere. Perché adesso. Ho molte più tears. E quei due. Mi dispiace. Per il gioco. Sono. Oggettivamente. Due oggetti. Che vanno presi. Tutte e due. Quindi addio. Cuori di vita rossa. Perché sì. Però addio. Allora. Allora. Synap. Cosa fa? Aumento di danno. Tre cuori neri. The path. Cioè. Dark robes. E l'altro. Aumento di tears. In questo caso. Oltre al massimo. Perché ho preso un oggetto. Che mi permette. Di andare oltre al massimo. E non mi ricordo. Qual è. Ah sì. Quello iniziale. Un tears up iniziale. E mi aumenta anche il danno. E sono dieci di danno. Tears oltre il massimo possibile. Devo dire. Che sono abbastanza contento. Di quello che ho. Non mi ci posso veramente. Proprio lamentare. Già. Purtroppo. Vedete quanto io ami. Lamentarmi. Del mini setup. Però niente. Non è caso. Le stock fa sempre bene. Ferromoni no. Però le stock sì. Ferromoni. Cioè. Ferromoni no. Perché non mi interessa in questo momento. Magari un'altra partita. Dico. Ferromoni. Grande pillola. Però in questa partita. È una pillola. Che non mi serve. Ok. Accogliamo questi qua. Che sono già due centesimi extra. Ora. Ogni soldo che raccolgo. Ha una possibilità. Di essere doppio centesimo. Ho le tiers al massimo possibile. Con un 10 di danno. E non è una cosa da poco. Perché 10 di danno. È molto danno. Almeno. Secondo. Le mie basi. È molto danno. Ok. Ho raccolto. 5 centesimi. Quindi adesso. Già il negozio è valido. Per un oggetto. Anche se spererei. Di trovarci grid. Giuro di trovarci. Giuro che se ci trovo grid. Sono contento. E se grid mi droppasse. Per puro e semplice caso. I saldi. Di steam. Sarei. Al settimo cielo. In ogni caso. I tiers up. Il setup che siamo riusciti ad avere. Fino ad adesso. Fino ad ora. Che ci ha dato il gioco. Adesso. È performante. Funziona bene. Aspettate. Posso fare questo. E almeno la prima andata. La faccio senza prendere danni sicuri. La seconda. Il secondo giro. Rischio. Ma va bene. Cosa fa questo famiglio. In particolare. Questo famiglio in particolare. Allo le King Baby. Spara un attacco a V. Cioè in due direzioni. A V. A V. E quindi sì. Dovrei fare un po' più di commentari. Ecco. Una cosa che sarebbe utile se avessi fuori. Sì. Li darei molto. Anche se ci saranno fuori droppati a terra. Potrei farlo. Non ho troppi problemi in questo momento. È una cosa che potrei fare tranquillamente. Perché non mi preoccupa. Come si può dire. La vita ora. Ultra Pride. Salve. Puoi droppare al limite il gatto a nove code. O la mano sinistra. No. Il Pride. Super Pride. Puoi droppare il gatto a nove code. E la mano sinistra. Troppa sotto. Ultra Pride. Quindi va bene. Non mi interessava. Ma lo sinistra. È il gatto a nove code. Il gatto morto. Ah il gatto a nove code. È un'inflazione. Che ho preso. Guardando video di YouTube. Non mi ricordo. Oh cavolo. Non mi ricordo più che lo diceva. Vabbè. Oddio. Se vi ricordate per caso. Chi diceva. Gatto a nove code. Anche lui. Si sbagliava. Ditemelo. Perché ho un vuoto in memoria altissimo. Grandissimo. Io provo a rirollare. Per due motivi. Perché c'è un stoppuccio adesso. Sì. Ma mette mai le possibilità di pa. No. Fanculo. Sono esplosi. Maledetti. C'è lo stopwatch. Vaffanculo. C'è il broken watch. No. Ok. There is option. There is option. Può essere utile. Dai. C'è lo stopwatch. È un cuore. È un cuore. Però. Prima facciamo così. Mi recupero la vita. Mi prendo. There is option. È operato. There is option. Vado a divertirmi. Per il resto della partita. L'oggetto del tesoro. L'ho preso. Quindi. Ma vaffanculo. Gioco eh. Vabbè. Io posso fare questo. Cioè. Non è male. Non. Non. Non mi interesserebbe. Ora. Però. Non è male. Perché. Me la porto appresso. E teoria. Non è. Veramente male. Come idea. Perché. Portarsi appresso. Una cosa del genere. Mi permette. Praticamente. Di donare. Quando io voglio. Cioè. Di ottenere. Quando io voglio. La roba. Quello lì. Sarebbe anche. Molto utile. Una domanda. È. Ne vale appena. Prenderlo. Non lo so. A posto di questo. Ecco. No. Vai. Andiamocene così. Non mi ricordo. Mai. Quando c'è. Quando uno è. Di fede. Se questo. Oggetto. Salve. D'ha aumentato. Perché sono già. Al massimo possibile. Di tiers. Quindi. D'ha aumentato. Fa solo bene. Vabbè. Quello che non mi ricordavo mai. Era. Il fatto. Se io. Per caso. Posso entrare qua dentro. Non mi interessa. Scendere direttamente giù. Se per caso. Mi convenisse. Prendermi l'altro. Tenere magari. Roba come cancer. Sì. Però. Con questo. Posso far fruttare. Di più. L'ultimo negozio. In teoria. Cioè. Con un po' di culo. Magari. Una retro treasure. Treasure room. No. Ovviamente. Con un po' di culo. Facciamo così. The world. Usiamola. Troviamo. C'è l'arcade. No. Male. Peccato. Io l'arcade. Ci avrei puntato. Io sull'arcade. Perché. Con l'arcade. Mi sarei potuto divertire. Però in ogni caso. Adesso. Quando io prendo danni. Ottengo centesimi. Quei centesimi. Mi danno. Una. Buona possibilità. Di ottenere tutto ciò che voglio nel negozio. La grande domanda è. Ci sarà grid. Oppure no. Io punto su grid. Sticky bombs. Cinque bombe. Che. Non sono troppo forti. Ahia. D'hanno preso. Chi se ne frega. Un centesimo droppato. Yay. Non ci dovrebbe poter essere a volte. Cioè. Io lo dico. Nei vecchi. Allora. Per come era strutturato un tempo. Adesso è sicuro. Non è più così. Adesso non so tanto io. Che non sono aggiornato. In teoria grid. Dovrebbe. Poter. All'arcade è vero. Che sono quella. Specie di grid mod. Quindi non avrei potuto tenerci nulla. Lo stesso. Vabbè. Come era un tempo. Grid era strutturato in un diverso modo. Sarebbe apparso qua. Soltanto se tu. Possedevi. E. 15 centesimi. La differenza adesso. E' notevole. Veramente. Una gran differenza. Perché può parire sempre. Dopo. Tot piani. Però ogni volta. Cirosico un pochettino. Ovviamente. Perché. Beh. Cioè. Io spero sempre. Di poter sfruttare il setup. Con i soldi. Anche l'ultimo piano. Ovviamente. La mia fortuna. Non mi dice mai. Sì. Puoi farlo. Leone. No. Non me lo dice mai. Mi dice sempre. Attaccati. Non è caso. Andiamo. Proseguiamo. Siamo in un setup. Comunque forte. Allora. Un po' più di danno. Sarei contento. Magari due oggetti di gatti. Però. Ovviamente. Anche così può andare. Non è male. Posso. Fare così. Tranquillamente. Perché c'era un po' di fero. Troppato. Mezzo cuore. E' molto utile. Da portarsi nel womb. Perché attiverà sempre. L'effetto tra Polaroid e negativo. In questo caso. Andremo di negativo. La partita non è OP. Può essere meglio. Ma negativo comunque dovrebbe soddisfarmi. Dovrei potercela fare. Quanto meno. Speravo di un Cricket Set eventuale. Posso fare così per prendere danno. Magari ottengo Money Wasp Power. Sempre essere pronti. Per qualsiasi oggetto tenuto. Sempre essere. Quando si può. Potenziati. Per tale oggetto. Ovviamente. Vai. E va bene. Niminiamo questo nemico. Non c'è molto da dire. C'è da sottolineare soltanto il fatto. Che siamo comunque. Relativamente potenti. Come vedete. Mamma non ci ha dato troppi problemi. Non posso dire di esserci dato gli shop. Però non ci ha dato problemi. Negativo. Oggetto di gappi. E marchio. Sì. Eh sì. Me la rischio. Allora. Vi dovrebbe dare un cuore. Sono Leviatano. Ok. Perfetto. Puntavo su questo. Sono Leviatano. Quindi aumento di danno. Due cuori neri. Secondo oggetto di gappi. Quindi possibilità di gappi molto alta. 5,7 centesimi. Permette di sfruttare un eventuale boss di The Ash. Se lo vorre... Se vorressi. Se volessi fare The Ash. Ricordiamoci. Ehm. Mi posso recuperare roba come Flatworm. Per adesso. Per adesso sì. Mi conviene. In teoria. Il tratto di bibbia potrebbe essere più interessante. Perché mi darebbe cuori rossi. Però mi va bene giocarmela anche così. Devo scendere. Sto cercando di recapitolare tutto quello che devo fare. Devo scendere. Ehm. In basso. In satana. Devo affrontare la Darkroom. Devo vedere com'è stata modificata. Sperando che non sia una cozzaglia di boss senza senso. Ma sia una cozzaglia di boss con un senso minimologico. Se ottenessi un cuore lo potrei dare via per tre cuori. Fede dopo. Ehm. Ok. Mi tengo il lesser. Non sfrutterò più l'oggetto. Non l'oggetto. L'effetto. Ehm. Di. Come si chiama. Del negativo. Che mi aumenta il... Cioè che fa danno. Quando io sono... Quando io prendo danno. E ossiedo mezzo cuore. Però chi se ne frega. Posso sfruttare. Riottenere tre cuori di fede. E lo farò eventualmente. Se satana non mi soddisferà con i suoi patti. E va bene. Ho detto tutto. Ho detto. Tutto. Tutto quello che devo... Dovevo dire. Speriamo solo che satana non sia stronzo. Di ottenere quello che voglio. Voglio visitare anche in una prossima partita. Mega. Satana. Però. Non so. Magari ci proviamo anche per questa di partita. Però la vedo un po' grigia. Come cosa. Aia. Danno stupido. Preso. Però preso. Oramai. Non ci posso fare più nulla. La vedo un po' grigia. Come cosa questa. Però. Si può fare. Con lo stopwatch. Sarei stato. Estremamente tranquillo. Su. Ok. Andiamoci a fare anche mega satana. Chi se ne frega. Perché lo stopwatch. Fa molte più cose. La curso de tower. No. Mi voglio in realtà completare il piano. Perché spero di una sacrifice. Ok. Death. Mi darà un famiglio. Che fa discreti danni. Ma mi parla soprattutto da molti danni. Quindi. Non è male. Però. L'aumento di danno. È più utile ora. Secondo me. Fa. Di più. L'aumento di danno. Almeno. Io preferisco più danno. Che più protezione. Quelli no. Perché costano un cuore ognuno. O comunque. Un cuore ad apertura. Va bene. Potrei uscire ad aprirgli tutti e tre insieme. Ma di solito. Non dovrebbero droppare quelli. Almeno da quanto so. Poi magari mi sbaglio eh. E poteva valerne sempre la penetto. Guarda. Quello è un ottimo. Ripeto. Ottimo. Trinket. Da trovare prima di questo piano. Certamente. Perché. Perché cosa fa di bello. Elimina tutte le possibili grid mod. Cioè tutte le possibili non grid mod. Tutti i possibili grid nei negozi. È utile. Non c'è molto da dire. Semplicemente è utile. Questa è un Algiz. È buona. Questa è una Dempere. Che è buona. Ma l'Algiz la supera purtroppo. Per la Dempere lo stessa. Perché l'Algiz. C'è un boss. Che io non conosco. Quindi voglio sfruttare l'Algiz. Per farmi quel boss facilmente. Esaminando anche un po' i pattern. Libro 4. Significato. Significa che io non vedo. La mia vita. Bella sapersi. Sta cursi proprio. Ottima. Io l'adoro. Ovviamente. Non ho poca vita. Quindi posso andare tranquillo. Quello mi fa scendere giù. Però non voglio rischiare. Voglio farmi il cuore. Patto con Satana. Eventuale. Stato al 2%. È una buona chance. Ma non è. Ok. Patto con Satana al 100%. No. C'è comunque un 27,5%. Non mi veniva a 27%. Non mi veniva a 7% in bocca. Non veniva. Ok. Scusate. Mi devo fare la battuta stupida. Non mi veniva a 7% in bocca. Quindi 27,50%. Perché possiamo un 72,50%. Ok. Sinceramente. Infatti con l'Angelo. Quando mai io li ho presi volente. In queste partite. Poche volte. Poche volte. Magari mi ricapita un elettro treasure room. Con un altro gaster blaster. Riderei tantissimo. Perché. Se è sciù del pup potenziato. Significa soltanto che. In quel caso sarei up io stesso. Io mi chiedo. Per quale motivo ci sia quella cosa. Ancora tuttora me lo sto chiedendo. Mi faccio queste stanze tranquillo. Perché. Ho intanto. Ok. No. Non ho bisogno di soldi. Ho una situazione. Che mi permette di fare tutte le stanze tranquille. Andiamo a farci i tlids. Ah. Potenziato. Stavolta. La volta scorsa. Non aveva quei due cosi. Non sono abbastanza certo. Ho comunque. Non ho avuto il tempo neanche. Di farli spawnare. Perché giustamente. Eravamo messi talmente bene. La volta scorsa. Con quel maledetto gaster blaster. Che. Tuttora. Io ancora mi chiedo la sua. Il motivo della sua apparizione. In quel punto. In cotale punto. Però. Va bene. In ogni caso. L'hanno reso un po' più difficile. Quindi con. L'aggiunta di due torrettine. Così. Sono io. Forse anche più vita. Non ne sono sicuro. Di quest'ultima cosa. Ah. L'hanno preso. Stupido. L'ultimo. L'ultimo è proprio stato stupido. Ok. Ultimo oggetto di gappi. Non mi devo più preoccupare di nulla. Sono gappi. Ma significa essere gappi. Significa. Vincere una partita. In questo caso. Io uso una volta. Però. Mi prendo. Gappi. Spop. Grande domanda. Piccola risposta. Andiamo. Niente sacrifice. Non ho cuori. Gappi. 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 Adesso evocherò. Ancora. Sei una marea di piani. Mi fa vedere la stanza. Adesso evocherò un mosque. Che fanno doppio il mio danno. Ah. Salve cancer. L'ho chiamato. Che ci sarebbe stato. Comunque evo come osche. Che fanno doppio il mio danno. Il doppio del mio danno è tanto. Quindi. Posso godermi la vita tranquillamente. Ora. Questa è la cap. Che aumenta i drop. Non male. Entriamo qua dentro. Giusto per fare una comparsata. Potrei. Sfruttarlo dopo. Non adesso. Finito il piano. Magari. Perché. Devo togliermi. In questo dubbio. Devo capire. Se funziona davvero. Oppure sono andato lì per fuffa. Cioè. Infelizmente. Quelle sono scorciatoie. Però. Non hanno senso. Secondo me. Per ora. Queste sono scorciatoie. Oppure magari. Ti porto in una versione alternativa. Del piano. In cui. Che ne so. Ci sono dei boss. E' un gen. Sarebbe una bella idea. Parte dei giocatori. Di isaac. Blue baby. E' più facile. Poi. Magari. C'è chi si trova più difficoltà. C'è chi trova più difficoltà. Blue baby. Però. Ho imparato. Isaac. Blue baby. E' estremamente easy. Di solito. Perché sconfitto isaac. Blue baby. Si fa fare più danni. Ecco. C'è easy. Più che altro. Si fa fare più danni. Blue baby. Isaac. Ha aperture più piccole. Infatti. E' modificato. Satan. C'è almeno. Nella stanza. E' modificato. Poi. Non so bene. Se questo. Cambierà. Troppo. La situazione. Però. Di certo. La stanza. E' diversa. E' differente. Ora. Te. Sei interessante. Poi. Mi posso mettere. Anche qua dietro. E non ho nessun problema. Mettermi qua dietro. Questa. Magari. Che. E' la musica vecchia. Di Wrath of the Lamb. Spero. Si. Si. Musica vecchia. Di Wrath of the Lamb. Che non era male. Mi piacere. Erano molto. Stile. Super Meat Boy. Perché era. Chi ha fatto le musiche. Wrath of the Lamb. Ha usato le stesse musiche. Di Super Meat Boy. Cioè. Stesse musiche. E' lo stesso. Compositore. Di Super Meat Boy. Quindi. Per chi ha apprezzato. Super Meat Boy. Apprezzerà anche le musiche. Di Wrath of the Lamb. A proposito. Wrath of the Lamb. C'è una mod. Che cambiava le musiche. Quella dell'altro gioco. Però va bene. No. Ok. Mi porta qua. Lo stesso. Quindi. Fa un culo. Non mi interessa. Va bene. Oggetti attivi. Come è mio solito. Quasi tutti oggetti attivi. Best Buzz. Ball Protector. Quando io prendo danni. E' una mosca che gira e fa danno. Ok. Uno trasformato tutti in cacca. Questo vi fa esplodere le bombe. Quando io lo premo. Questo qua. Il 12. Rirolla le rocce. Oh. Ciao. Di adversary. Uno è morto. Quanto meno. Uno mi ha fatto il piacere di soffrire. E morire male. Ok. Cosa c'è qui? Mi fa vedere. O la. Mi fa l'effetto della bussola. Della blue map. O della mappa. Blue map. Andiamo verso quei due punti. Che di solito indicano qualcosa. Là c'è la presenza di una strada. Magari sono un po' fortunato. Ottengo qualcosa. Non mi ricordo mai cosa può droppare. Super rat. Super rat o ultra rat. Non mi ricordo mai proprio anche il suo nome. Talmente l'ho sempre consigliato un nemico non importante. Mi ha droppato bombe. Quindi mi lascerà il dubbio per molto tempo ancora. Però. Può droppare un oggetto particolare. Allora. Ogni. Peccato capitale. Ormai abbiamo imparato che droppi oggetti particolari. Mi devo concentrare. Perché comunque non ho così tanti cuori. Ok. Ho un alghiz. Quindi mi basta arrivare al boss. E di solito l'alghiz poi. Con gatti soprattutto. Ti fa fare ok. Tranquillamente. Sei arrivato al boss. Ce l'hai fatta. Bravo. Ho presenti un caffettino. Rilassati. Caffè. Buongiornissimo. Ok. Prendiamo qua dentro. Rentriamo. Super grid. Salve. Tu sei sempre presente in questi casi. Guarda. Poche volte nell'arco della mia vita non ho visto un super grid qui. Però è presente. Ora. Stava sbagliata completamente. Ho cannato. Vabbè. Quindi ti via che per forza quella a sinistra in teoria. Quanto meno mi dovrebbe portare da sopra. O forse fa giù su. No. Giù su mi sembra un po' strana come cosa. Dai. Dobbiamo andare così. Ok. Io ho confidato che uno avrebbe ucciso le mie mosche. Le mie mosche hanno fatto il loro lavoro. Nel caso sono molto forte. Non mi dovrei preoccupare di ogni stanza. Con un po' di intelligenza. Posso vincerla facilmente. Non ho bisogno neanche di preoccuparmi troppo dei pattern. Cioè in questo caso ho solo bisogno di. Di farcela. Di arrivare là. Dire. Ok Ansuz. Neviamoci il problema. Le stanze sono quelle. Quelle quelle l'altra. E l'altra era con The World. Ansuz mi fa vedere solo tutto. The World mi fa vedere tutto. Cioè The World mi fa vedere tutto. Ansuz mi fa vedere tutto. Esattamente tutto dove si trova. Quindi non fa l'effetto della blue map. Per esempio Ansuz. Non è. La mappa. The World ecco. Cavolo. A volte è proprio un blocco mentale. Che mi elimina le parole. Dalla mia bocca. Ma in ogni caso. Chi se ne frega. Andiamo qua dentro. Ok. Queste sono molto utili in realtà. Una è una Blank Rune. Eh what? Che però è inutile. Per caro. La usiamo. Non fa mai male. Blank Rune. Yera. La doppia. Ok. Qua c'è una Yera. Qua c'è una Algiz. Qua c'è un'altra Yera. Qua c'è una Blank. Questa è un'altra Ansuz. Questa è un'altra Blank Rune. Che è un'altra Yera. Un'altra Blank Rune. Un'altra Blank Rune. Che è un Algiz. Stavolta. Un'altra Yera. Sono Algiz. 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 Sono tutte Algiz praticamente. E sono anche full vita. Vabbè. Vediamo qua dentro. Dell'Emb. Unito a chi? A The Ash. No è The Ash. Mi stai mettendo. Non posso darti torto. Gioco. Cioè. Creatore della Mondia. Sinceramente non ti posso dare torto. Non posso dire da apprezzare. Perché avrei voluto. Più boss. Come. L'altra Boss Fight. Preferivo più quella scelta stilistica. Quello riamodernamento della Boss Fight. Punto con più boss. Però dire che non ha prezzo. È una cosa brutta. E la musichetta ci sta. Perché comunque. Chi non ha giocato a Breath of the Lambs. Utilise di una musica. Tale. È carino. Come ho già detto. Questa è una discussione. Ormai sta diventando parte dei miei video. Perché. Beh. Niente l'abbiamo tenuta spesso. Però. Non me la ricordo. Ovviamente. Di dove si trovi questa. Vabbè. Fa nulla. Non è troppo importante. È una bella musichetta. Che ci sta abbastanza. Spero solo che non porti. Copyright Strike. Per dire. Però dai. Su. Su via. Lo carico prima. Questo video. Lo noto. Se porta Copyright Strike. E lo elimino diretto. Intanto. Copyright Strike. Se non ero. Hai del tempo. Per poter. Cioè. Almeno. Non. Copyright Strike. Di per sé. Non parte. Su. Di Copyright Strike. Lo rischi. Quindi. Cioè. Di solito. Sono proprio. Stronzi. Se per caso. Ti fanno partire. Subito. Il Copyright Strike. Ecco. E ne. Ne evitare. Ma. In ogni caso. Qua. Non dovrei avere problemi. In teoria. Da quello che so. Di questi. Patter. E. Mi ho vedo. Ad un punto. In cui. Uno non ha problemi. Non ha poi. Più problemi. A sistemare la cosa. Ecco. Questo. Spero che partisse. Da un altro lato. Adesso. Sfrutto. Il fatto. Di poter. Mandarci. Le mie mosche. Per poter fare. Più danno. A The Ash. The Ash. Bah. E' un boss. Che ci può stare. Cioè. Non dico. Che è brutto. Qua. Perché. Non è male. Come l'idea. Di mettere. The Ash. Potevano fare. Qualcosa di meglio. Però. Ovviamente. Ognuno è suo. In ogni caso. Per questo video. E' tutto. Su The Man of Isaac. Come mento. E' tutto. Spero che il video. Vi sia. Quanto meno. Piaciuto. Un minimo. Un poco. Non lo so. Qua da me è tutto. Ciao a tutti ragazzi. A un prossimo video. Ciao.